Ok ragazzi, adesso faremo l'ultima taglia, l'ultimo fantasma a pezzi, questo qua, l'ultimo, che sarebbe il nemico del mio nemico, Gioca, che non l'ho ancora fatta, è uscita praticamente ieri, quindi, per dirvi... Eh, non fa, i matchmaking fanno schifo, a quanto pare i matchmaking fanno schifo, comunque ho preso il nuovo wingman, che bello, che bello, anche questa, guarda, guarda, questa fa schifo, anche questo, guarda che ficco, ah, raga, non mi fa partire un nemico del mio amico, vabbè, ci vediamo, boh, facciamo tutto, o dopo, non so, vediamo, raga, non parte, non disponibile la connessione al server, ma che è? Non parte, ma... Siamo sicuri che sta in matchmaking? Oh, madonna, cioè, dura più questo che i miei video di The Last of Us, veramente, o questo non li avete ancora visti, guardateli, per forza, perché siete persone brave, io lo so, ok... A quanto pare, si parte nella zona della mappa, mi sa che non esiste, no, esiste la zona della mappa, in Canyon the Re, non lo so, vabbè, utilizziamo... Octane, sì, dai, anche se, di solito si utilizzerebbe Caustic, però Caustic, lo trovo altamente inutile, perché, comunque, ti vedono in mezzo al gas, e questo è il problema, e se ne fottono di... e se ne fottono i Prowler del gas, quindi, gli fai poco danno, perché poi fanno subito, veloce... Ok, vai, volevo riprendervi quello che qui siete venuti, bene, ecco la mia proposta... oh, fammi leggere! Vabbè, vai Andiamo tutta di Mastiff, vai Non me la ricordavo così veloce, eh Ho un frammento da trovare, magari stasirò un nuovo record di velocità Oh, ma chi è? Ciao, bimbi belli Bua, ma che cazzo Perché ci sono un tempo cecchino? Forse qua in giù ci sarà un cecchino Vabbè, comunque, quel miss incredibile col Mastiff Vabbè, da ricordare per sempre Da dove è apparso quello? Quando... quanti ne sono? Un bel po' Ma quanto hanno? Ma chi sei tu? Ma chi ti conosce? Ho un Kitzfenice? No, vero? No Prendiamo un pochino di colpi Pesanti Bu, vabbè C'è le scudo, c'è le scudo, c'è le scudo, c'è le scudo, c'è le scudo Eh, vabbè, oh, ma che... R99 d'oro Scudi e siringhe mi vanno bene Ma chi è? No Ma che... Ma che... Raga, ancora! Da là sopra! Ma quante se ne inventano sti prowler? No, vabbè, raga Tutte da sopra, che è? Oggi è la giornata del tetto Sistema il tetto Vabbè, vai Carichiamo altri scudi, va Proviamo a prendere le va 8 No, 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 no No, no Ma che ca... Madonna, ma raga Che è, mo? Il pandemonio Basta No, raga, ma che... Siamo seri Vabbè, wingman Io, raga, la wingman La prendo pure, va Wingman forever Ricordatevelo No, raga Che cos'è? No, però sto mirino qua, no Ho preso la wingman pure Per flexare un pochino la mia skin La mia nuova skin La flexo tanto Guarda Flexo 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 Guardate, guardate Flexo la mia skin Guardate quanto è bella Ok, basta Funzioni pesanti It's go time Cento persone Eh, infatti Guarda un po' chi si rivede Ma che ca... Ma che... Ma chi vi conosce? Come mi ha insegnato Samuel Roski, la velocità è tutto In questo momento mi sta praticamente salvando il culo Da, laggiù Siamo seri? Non riesco a... Ma... No, raga, ma... Ma che... Ragazzi, sto lasciando il culo Ma che cos'è? Sto lasciando il culo Ancora Madonna Quanto ho mirato Entriamo Usiamo la wingman Che praticamente li one shotta Loro non li one shotta Vabbè Flexiamo Flexiamo tutti insieme Un prowler Un triple Vabbè La madonna Una Spazfire d'oro No Vabbè Quante cose Allora 99 carabina Eh, prendete carabina Perché sono più abituato No, raga Ancora Mastiff Se l'ho mollato È per un motivo, no? Ok Oh Oh Attenzione Io metterei questo Perché li one shotta i prowler Così Oddio Mi stavo Mi stavo Mi stavo dimenticando Il motivo di questa missione Sapete Dobbiamo Odè Aspettate Difendiamo Difendo Io sì che sono una persona importante L'ho difeso benissimo Ok, basta Vabbè Quante figa sta wingman Ok, qua dentro c'è gente Non simpatica Eh, vabbè La madò Gente non simpatica E dire poca A quanto pare Eh, la madonna Stati calmo Andiamo Questa per un certo Una devotion Faccia così Non li prendo Faccio il matto io Gss scout Vabbè Colpi Gss scout Gari Almo se ce la vogliamo Giocare un pochino da lontano Ok, pronti Ah, madonna Ragà Aiuto Ok, guardate Flexo wingman All'ultim proprio Ok Prendi, prendi, prendi Olè Uh, ombra No, vi immaginate Si potrebbe usare La velocità pure in ombra Cioè Octane sarebbe Stra-O-G Cioè sarebbe L'uomo più veloce Di Apex L'uomo ombra Io voglio Io voglio Io voglio Io voglio la modalità Di Halloween Pure subito Piuttosto quando si arriva Quaggiù Oh raga Stranamente Raga Come si arriva Laggiù Raga Intanto Mi arrampico pure Molto velocemente A quanto pare È la modalità Di Halloween Raga Niente Basta Quello Sono l'uomo Più veloce Nel mondo Dopo i Octane Ma chi ti conosce Ma pure a te Sto a parlare Qua farebbe bene Pure un tank Perché almeno Meno colpi Sei Sprechi meno colpi Sei più veloce Ok Qua La madonna No aspettate C'è C'ho una mandria Di Prowler Che mi arriva addosso Ok Ho finito No Vieni qua Amico mio Ancora Basta No raga Quanti ne sono Pia fortuna Non mi ha riportato Ancora Non mi riporta Darmi Piuttosto Ma questi qua Sono venuti fuori Dalla safe È lui Ok Uno Due Tre Quattro Ho detto Quattro Cinque E dai E muoviti Poi dove si deve andare Non so Mi sa laggiù Eh Aspettate Prima di raccoglie Uccidiamo un pochino Di Prowler Così non ci danno fastidio E la madonna Si uccidiamone un po' Aspettate No devo ritornare Alla giù Ciao Ma bastardi Guardate Guardate che Si è una so Camperata Tutta qua Quanto è veloce Non me ne ho mai Accorto Conto i Prowler È velocissimo Ok Si vabbè Ciao Chi è Chi è Vai Cosa fa Schermo verde Fa schermo verde No Il nostro schermo verde Ok Vai GG Finalmente Anzi perché È uscita ieri Io non l'ho fatta Perché sto da Mio padre No Quanti Prowler 67 Mi culo Ok Vediamo Il cosa Atemi Ametista E vi posso assicurare Che è un frammento È vero Poi Plassima Che c'ha voglia di leggere Fantasma Pezzi Allora Visto che Adesso non c'ho voglia di leggere Perché dovrei pure Fra poco Già andare a dormire Ve lo leggerete Da soli Cercate un video Fantasma Pezzi Capitolo 9 Apex Legends Ciao Intanto me lo leggo Un pochino io da solo Perché non c'ho voglia Di leggere La salta voce Ok Eccoci Adesso Infatti Ma Qual è La decorazione Arma Dobbiamo farci L'ultimo Che ci da pure La decorazione Arma Non ce la fa vedere La skin Paragrafina Questa qua È Flatline Gioca Non so Teniamoci Octane È troppi A me Non mi piace Quale Quale skin Vi piace Per Octane Questa 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 Scrivete sotto Nei commenti Se non scrivete Siete delle persone Brave Ma se lo scrivete Siete delle persone Molto più brave Tirami su Non so È molto buono Cioè Tirami su È molto buono Tirami su Ah ragazzi Arma TP2020 Sono Mi sento protetto Eh Raggiungetelo Eh un attimo solo Loba Voglio vedere se c'è qualcosa In giro Non c'è nulla Siamo seri Stiamo andando In una direzione Sbagliata Ok Scusa Loba Beh siamo senza scudi Quindi Raga Presumo che Va tutto bene No Ci siamo Cerchiamo una leva O una maniglia Qualcosa del genere Ah Molto gente Sentire Raga Secondo me possiamo pure buttare La P2020 Scende con me La P2020 Tomba perduta Un luogo segreto La P2020 Però viene sempre con me Allora Sento rumori molesti Possiamo scivolare Uff Che palle Possiamo tirare i pugni Però Porta Porta La P2020 Quarantena Verso Nova Hike Che è Hike Una nuova marca di scarpe Non ti piace il giatto Tutti i bambini Avano il giatto Ma Ma chi ti conosce Aiuto Aiuto raga Ma che ca Ma che ca Qua è il corrotto Romeo Oscar Portami un whisky Ma che cazzo di problemi hai Fratello No ma che Ragazzi sto laggando Ma che ca Ah sono le luci No è il Più davanti Ma che cazzo Ciao Eh io no Se li butto Non succede nulla Ok Che facciamo raga Ok Croce Mi sembra tutto chiuso Proviamo raga Ah si Alla fine comunque Era una testa Si aveva già capito Brantium Brantium Cheat È stato un grosso errore In che senso Non ho In che senso Altra scelta In che senso Olimpus Olimpus Allora Perché non lo sapessero Il pianeta Che avevo detto prima È il pianeta Di Octane 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 Roba Octane Lifeline Intanto il popazzetto Ecco che cos'era Ash 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 Schimper Flatline Eccetera Ok Dunque Per chi non lo sapesse Il pianeta Leggiamocelo un pochino Tutto Così Ok Ve lo lascio così Intanto io me lo leggo Un pochino ad occhio Ve lo lascio così Ok Eccomi raga Ehm Ho letto un pochino Alla fine Si Avevo capito È casa Intesso abbiamo finito La caccia raga Grazie a tio Potrei dire Vabbè Raga Niente Flatline Skin E in più ci mettiamo pure Ash Ci sta bene dai Più o meno ci sta Ma c'ho anche Amethysta Amethysta dove la metto un attimo Oi Amethysta dove la metto Qua c'ha tutte le S Ehm SMG C'ha anche qui Ma forse qua ci potrebbe stare bene Amethysta Ehm No Amethysta No Ah no Qua c'è Qua c'è già Rubino Che ci sta bene di suo Quindi lascio stare Si precisione Long Longhorn Ci ho già messo la Cosa blu Visto che ci sta bene Ma sapete che forse qua ci sta meglio Ash No no Anzi Sto addosso Sto fessando Triple tech Lasciamolo così per favore Gelone Ehm Amethysta Ehm Ehm Non ci sta quasi per niente bene Da nessuna parte Amethysta Siamo seri? Forse c'è una skin Per Sì mi ricordo che c'havamo una skin Puzzle E puzzle Ma l'è Vediamo se ci sta bene puzzle Si ci sta voglia Se ci sta bene Ma ci teniamo puzzle Che ti voglio dire Questa sorpresa pure Se non posso metterla pure qua Invece Aspettavo io saprei C'ho Cosa Lui rosa Nooo Penicottero Ma quei saline Quei cos'è Artico Cardinale Motte Orchidea Esp I fogli Oceano Standard Niente Niente raga Che vi posso dire Adesso Termina qua Uh aspetta Qual è Il più bello Eh niente raga Adesso Che vi posso dire Termina qui È stato Molto Un viaggio molto Come posso dire E' Dice Semplicemente I video Non usciranno Ancora Per un bel po' Perché tipo Della stufas Non posso domani Perché Appunto Devo Andare Da mia nonna Quindi Non posso A prescindere Quindi Ciao